Una delle figure nell'entourage di Alfonso era un giornalista che si chiamava Ettore Mattia, che scriveva all'epoca per il momento sera, che avevano delle edizioni particolari per il cinema anche, stava sempre ai festival e cose, e creavano eventi, cioè il cinema come evento, ma anche raccontando frotole, facendo delle cose, e lui era un maestro, e a casa sua all'epoca incontrammo Martin Scorsese, che ancora non aveva fatto il suo grande esploat, lui sperava di lavorare in Italia, e questo era il mondo all'epoca dei Sansone.